La pesca del Veneto in ginocchio per il caro gasolio e non solo, stamane la protesta di una flotta di peschericcio al canale della Giudecca Venezia per chiedere aiuto alle istituzioni. Mentre continua la pesante conta dei danni per il maltempo di martedì sera, nuova allerta meteo per domani, previsti ancora nubi fragili, vento e gradine dalla pedemontana alla pianura. La comunità di Concordia Sagittalia è sconvolta per la morte a soli nove anni di Leonardo Rizzetto per sei mesi fa, la diagnosi di un tumore al cervello e il piccolo ha lottato con coraggio fino all'ultimo. La procura di Venezia apre un'inchiesta sull'eccesso di un 61enne di martellago morto improvvisamente sul letto d'ospedale dopo essere stato operato per un polipo alla narice. Continua a far discutere il caso del ciclista minacciato con una pistola per un diverbio sulle strisce pedonali, le parole del giovane nigeriano. Esperienze dirette con l'apprendistato e la mobilità interregionale, ricalcando su scala nazionale il modello del programma europeo Erasmus, il Partito Democratico Veneto lancia la sua proposta di orientamento attivo. Cresce di ora in ora l'attesa per la penultima tappa del giro che partirà da Belluno per arrivare sul passo Fedaia, già in tanti si sono accampati per attendere la carovana in rosa. Buonasera, ben ritrovati questi dunque i titoli di oggi, lo avete sentito la pesca del Veneto, è in ginocchio per il caro gasolio e non solo. Questa mattina una flotta di pescherecci ha manifestato al canale della Giudecca a Venezia per chiedere aiuto alle istituzioni. Una flotta di pescherecci provenienti da diverse località della costa veneziana solca le acque della laguna di Venezia. La Prodo è alle Zattere per manifestare davanti alla Capitaneria di Porto il disagio di un'intera categoria messa in ginocchio dal caro gasolio. Ma se avanti così chiudiamo qua, non c'è niente da fare, così è abbastanza, a me non ho mai visto, a 32 anni che comando non ho mai visto una situazione del genere. Per prendere 50 euro ti voglio dai 6.000 ai 6.500 euro di pescato, non è che l'Adriatico quest'anno ci offra tutto questo pesce, fra le ammucilaggine e le meduse, non è tanto possibile lavorare, non è possibile lavorare. Io a fine mese non so come che pagherò il mutuo. In Veneto la pesca è stata fino ad ora un settore floridissimo che guida il paese anche nella protesta di questi mesi. Dal governo sono arrivati 20 milioni di euro di sostegni, la necessità di intervenire è evidente. Abbiamo calcolato che se noi mettiamo insieme tutta l'industria della pesca e noi non vediamo né la Fiat, nessuna industria, è che purtroppo siamo suddivisi. Noi siamo a Chioggia, siamo circa 280 barche, con 4 persone di equipaggio, quindi ci sono già mille persone di equipaggio là, l'indotto e tutto quanto. Poi se andiamo a vedere l'indotto e tutto quanto ci saranno circa 3.000 persone, 3.500 persone che ci girano tutto quanto il mondo della pesca. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta da esponenti della prefettura e della capitaneria. A portare il sostegno della politica un fronte bipartisan di consiglieri regionali Chioggiotti, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Jonathan Montanariello del Partito Democratico e Marco Dolfina della Lega, il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao e altri primi cittadini. Quel distretto ittico di Chioggia, Rovigo, parliamo di un miliardo d'euro all'anno, quindi insomma credo che tra naturalmente la trasformazione è tutto, parliamo di numeri veramente importanti. Noi abbiamo tra i molluschi e la pesca in mare abbiamo 1.700 addetti sulla portotolle, metà sono donne, tra l'altro. Io provengo da una famiglia di pescatori, faccio un'altra professione però ho visto mio fratello e mio nipote fermare il pescherecio, si ferma la tradizione e la storia di una famiglia che ha vissuto di pesca per più di cent'anni, ecco è riportato questa crisi a tante famiglie. Continuiamo con la cronaca, è un 45enne romeno residente a Casale di Scodosia nel Padovano, la vittima dell'incidente mortale che si è verificato poco dopo le 13.30 lungo l'autostrada 23 Palmanova a Tarvisio in direzione sud. L'uomo era la guida della Mercedes, uscita di strada per causa in corso di accertamento e finita contro un guardareil assieme a un connazionale nazionale, ferito e ricoverato in ospedale, stava rientrando a casa dopo un sopralluogo di lavoro, pesanti le ripercussioni sul traffico. Ed è morto a solo i nove anni a causa di un tumore al cervello che in sei mesi lo ha ucciso, lutto a Concordia Sagittaria per la scomparsa del piccolo Leonardo, figlio del dirigente calcistico della Iulia Sagittaria di Concordia, Giorgio Rizzetto, il bimbo che ha lottato fino all'ultimo con coraggio, è ispirato stamane all'ospedale di Padova. Leonardo frequentava la quarta elementare alla scuola primaria Rita Levi Montalcini di Concordia Sagittaria. Sulla pagina Facebook della Iulia Sagittaria è apparso un post di vicinanza al dramma della famiglia. Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto. Un forte abbraccio al fratello Riccardo, al papà Giorgio, nostro dirigente, alla mamma Valentina. I funerali saranno lunedì alle 16 alla cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria. Positiva la cocaina, questo l'esito del test sulla neonata di 5 mesi di Chioggia ricoverata da giorni in terapia intensiva a Padova. Il saluto e gli auguri di una pronta guarigione da parte del sindaco Armelao. La bimba di 5 mesi di Chioggia è trasferita a Padova in terapia intensiva dallo scorso 9 maggio e risultata positiva alla cocaina. Si ipotizza si sia trovata in un ambiente nel quale i genitori oppure dei conoscenti abbiano consumato la droga. Famiglia attenzionata e seguita dai servizi sociali della città, dice oggi il sindaco. Chiaro che mi auguro che emergano delle notizie ovviamente confortanti per la bambina prima di tutto e poi anche per l'ambiente familiare. La piccola trasferita dall'ospedale di Chioggia a Padova per un'emorragia cerebrale presenta tracce dello superficiente nei capelli e sulla pelle. Secondo i sanitari e dall'esito del test non deriverebbero da un'assunzione, bensì da un contatto esterno con la sostanza. Noi siamo pronti ad intervenire e ad aiutare le persone. Sul corpicino della bimba inoltre sarebbero stati notati anche dei traumi. Ciò che si vuole chiarire ora è se la neonata sia stata vittima o meno della sindrome del baby shake, ovvero lo scotimento violento e continuo per farla smettere di piangere oppure se si sia trattato di una semplice disattenzione. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. La speranza e gli auguri di un graduale ritorno alla normalità per la piccina da parte del sindaco Armelao. Mi auguro che la bambina possa star meglio, possa guarire, star bene e possa ritornare a Chioggia a giocare con i propri amici. Ed ora parliamo di un presunto caso di mala sanità. Si indaga per omicidio colposo dopo la morte di Enzo Stevanato, 61enne di Martellago, molto noto a Mogliano. Quello che sembrava un banale polipo alla narice gli è stato fatale. L'autopsia chiarirà la causa della morte. Nel caso di specie la lista di attesa, ahimè, era di oltre un anno. E questa lungaggine è anche un po' figlia del periodo post-covid che stiamo vivendo tutti quanti. Perché ovviamente ci sono tanti interventi che sono stati procrastinati a causa dell'emergenza sanitaria. E ovviamente però gli interventi dopo si vanno ad accavallare l'uno con l'altro. È un effetto domino quello che avrebbe portato la morte di Enzo Stevanato, 61 anni di Martellago, una vita in De Longhi e una passione per la pesca portata avanti con il Lenza Club di Mogliano. A dicembre 2021 quella che sembrava una scoperta tutto sommato banale, un polipo alla narice. È in questo momento che viene inserito nella lista d'attesa dal reparto di Otorino la ringoiatria di Mirano, tempistica prevista per l'appunto un anno con la raccomandazione di contattare il medico curante in caso di peggioramento. Peggioramento che purtroppo c'è stato. Stevanato cerca di mettersi in contatto con il dottore ma quest'ultimo in ferie il naso continua a sanguinare. Venerdì 13 maggio viene portato in pronto soccorso ma rimandato a casa sempre in attesa del rientro di quel medico. Il giorno dopo, sabato, il copione si ripete alle 18, secondo accesso al nosocomio ma non ci sono otorini. Stevanato ritorna al mattino di domenica, gli viene sostituito il tampone e anche qui viene rimandato a casa. Lunedì finalmente la visita in reparto, si decide di intervenire con il bisturi ma con scarso successo. L'uomo viene ricoverato e martedì avvisa la sorella che ci sarebbe stato un nuovo intervento l'indomani. Mercoledì la donna si reca di persone in reparto e non lo trova in stanza. Le dicono che si trova in emodinamica per un esame e viene invitata a richiamare giovedì. Venerdì l'epilogo, il 61enne si trova nel suo letto, alle 9.40 chiama la sorella e le chiede di portargli un paio di ciabatte. Pochi minuti dopo il dramma, Enzo sta male e sono inutili i tentativi di rianimarlo per 45 minuti, alle 11.30 viene dichiarato il decesso. I familiari presentano un esposto ai carabinieri di Dolo chiedendo e ottenendo un'autopsia. L'esame è stato svolto nelle ultime ore, si presume una patologia di natura cardiocircolatoria ma si devono attendere gli esami istologici per avere risposte certe. L'ipotesi di reato formulata dalla procura veneziana e al momento contro i gnoti è omicidio colposo. Mentre continua la pesante conta dei danni, prima il tempo di martedì sera scatta una nuova allerta a meteo da parte del centro funzionale e decentrato della protezione civile della regione del Veneto. Domani si prevede un tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi già dal primo mattino sulla pianura e dalle ore centrali sulle zone montane e pedemontane. Non si escludono inoltre locali fenomeni intensi, forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento, rinforzi di bora, tratti anche forti su coste e pianura, limitrova fino alla prima parte della domenica. E continua a far discutere il caso del ciclista minacciato con una pistola per un diverbio sulle strisce pedonali. Sentiamo le parole del giovane nigeriano. Questo è un bodyguard che tira fuori la pistola e minacciarmi, no, io non ci sto e io ho detto guarda, sicuramente sì, sinceramente non ho paura, cioè non ho paura, sono sicuro che non mi può sparare, se mi spara allora sì. Mi ha fatto la sorpresa che la prima volta, cioè la prima volta che sento, cioè di solito guardo un tv che uno spara, uno spara, ma non l'ho mai visto. Non pensavi di trovarti in una situazione del genere? No, no, io ero già in ritardo, anche lavoro, andavo anche in fretta, cioè quindi ero già l'altra parte, le ho solo detto guarda che sei sulla striscia, vai via da là. Dice di non aver avuto paura Kingsley, il 32enne nigeriano, intimidito con una pistola all'arcella da una guardia giurata dopo un diverbio per un parcheggio sulle strisce pedonali. Il vigilante, secondo la sua ricostruzione, non gli ha puntato la pistola, ma gliel'ha mostrata con fare minaccioso. No, no, non mi ha puntato, era seduto nella macchina, non è sceso, mi ha estratto la pistola e mi ha detto vieni qua, vieni qua che ti sparo. E c'è una cosa di 15 secondi, poi prima c'è, perché c'era anche i video, c'era delle persone tante in giro che hanno fatto anche i video e anche le foto. Allora lì mi hanno chiamato, io stavo già andando via, è lì che mi hanno chiamato perché loro hanno sentito, perché io stavo già agitando, e loro hanno detto, mi ha estratto la pistola, allora sparami, sparami, allora la gente si è fermata, cosa è successo? Io gli ho detto, guarda, dentro un batti becco non neanche ha detto niente, mi ha detto prima lui stai zitto, io gli ho detto stai zitto tu, e questo è estrai la pistola. Se allora ogni cosa che siamo stai zitto e quell'altro stai zitto e risponde quell'altro, estrai la pistola, allora non lo so io, ti giuro non lo sto. Kingsley vive in Italia da 18 anni, lavora a Cadoneghe e ha quattro figli, mai avrebbe pensato di vedersi minacciato con una pistola. E non ti era mai successo una... No, 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 io sono cresciuto anche in ghetto in Africa, in Nigeria, non mi è mai successo, vedo, ma non mi è mai successo che uno mi punta la pistola, mi sembra strano, ma niente di che, niente di che, se sono qua a spogermi le giunincia. Ora il 32enne ha fatto denuncia ai carabinieri, sperando che venga fatta chiarezza su un gesto che ha creato non poche polemiche in città. Attenzione ai giudizi troppo frettolosi, questo è il monito dell'assessore regionale Roberto Marcato riguardo alla vicenda che ha visto contrapporsi un 32enne nigeriano e una guardia giurata. Si rischia sempre poi il razzismo al contrario, no? E siccome allora c'è il bianco, figlio di Trump, bardato fino ai denti con la pistola che va in giro a terrorizzare la città, è il povero migrante di colore che subisce i sopprusi. Il rischio è che si lega così, anzi il rischio non è un rischio, sicuramente lo scalpore è dato da questo. La vicenda che vede coinvolto il 32enne nigeriano Kingsley e la guardia giurata muove la politica. Anche l'assessore regionale Roberto Marcato, esponente di peso della Lega Veneta e Padovana, dice la sua invitando tutti a non dare giudizi affrettati che potrebbero essere ribaltati. Andiamo molto cauti perché io di storie dove si parla di far west con pistoleri che vanno in giro di notte a terrorizzare le città, ne ho sentite a centinaia. E dopo passata un po' la buriana, era nulla di fatto, quindi intanto prima cosa andiamo a verificare i fatti. Dopodiché c'è una differenza sostanziale fra far vedere che hai una pistola in una fondina perché ce l'hai perché è il tuo lavoro e puntare la pistola contro qualcuno o addirittura peggio. Quindi insomma anche qua è tutto da verificare. A me sembra molto una cosa che se non ci fosse il ragazzo di colore non avrebbe parlato nessuno perché diciamolo, è questa la verità. Fermare l'umoragia di talenti, bloccare la dispersione scolastica, arginare il numero di giovani che non studiano e non lavorano sono gli obiettivi della proposta del Partito Democratico del Veneto di revisione dell'orientamento scolastico. Esperienze dirette fatte dagli studenti sia in ambito lavorativo che universitario utilizzando lo strumento dell'apprendistato e la mobilità interregionale ricalcando su scala nazionale il modello del programma europeo Erasmus. Il Partito Democratico Veneto lancia la sua proposta di orientamento attivo per rendere più efficace la scelta del percorso di studi e lavoro attivo dei ragazzi. Con questa proposta vogliamo fare in modo che nelle scuole, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni datoriali si possa aggiungere ad un'intesa che determini che se uno studente lo vuole può fare questo tipo di orientamento non più passivo ma attivo. Una proposta, quella dell'orientamento attivo, che parte dalla situazione attuale, che vede le imprese venete alla ricerca di mano d'opera ma spesso si scontrano con la mancanza di profili qualificati. Da qui la necessità di migliorare il percorso formativo dei giovani, un tema che il PD vuole discutere in consiglio regionale. La nostra proposta è dunque quella di modificare, invertire la mentalità dei progressi di formazione che devono diventare attivi, dove cioè i ragazzi diventano il protagonista responsabile e consapevole di ciò che sarà il suo ingresso nel mondo del lavoro perché siamo convinti che anche attraverso questa responsabilità passi una miglior possibilità di trovare occupazione e soprattutto la garanzia di trovare un lavoro migliore in termini di retribuzione e di garanzia di tutele. La proposta di orientamento attivo è rivolta anche al mondo universitario per arginare il numero crescente di giovani che non studiano e non lavorano. Anche qui pensiamo a moduli che si realizzano durante il quinquennio dove il ragazzo vede, comincia a respirare l'aria dell'università, verifica se la sua strada è quella giusta o seppure invece va cambiata. E cresce di ora in ora l'attesa per la penultima tappa del giro che partirà da Belluno per arrivare sul passo Fedaia tra passione per le montagne e amore per il ciclismo. Già in tanti si sono accampati per attendere la carovana rosa fino ai confini con il Trentino Alto Adige. Fedaia ha chiuso da questa mattina in attesa dell'arrivo della corsa in rosa di domani pomeriggio. E allora ecco che chi non si vuole perdere il tappone alpino della edizione numero 105 del Giro d'Italia già da ieri sera si è accampato lungo gli ultimi e più spettacolari chilometri del percorso. L'anno scorso non sono passati, quest'anno speriamo che il tempo tenga e che tutto vada bene. Già sul Fedaia per il Giro d'Italia? Noi sì, siamo già da ieri sera. Quale vi spinge a venire così tanto prima? La passione per il ciclismo. Come si fa a non venire a vedere il Giro d'Italia? Le montagne, il resto è un po' mediocre ma le montagne. Già sul Fedaia per il Giro? Sì. Qual è il bello? Tutto. Non necessariamente chi sul Fedaia arriverà in rosa, ma si può dire che certamente chi sul Fedaia indosserà la penultima maglia rosa sarà destinato il giorno dopo a raccogliere l'eredità del colombiano Egan Arley Bernal Gomez, trionfatore dell'edizione 2021. Il bello del vedere è il loro sforzo, vedere quanta passione hanno loro, quanta fatica fanno in un contesto meraviglioso che è queste montagne, queste salite, il verde. Si può venire quando si vuole, si può stare quanto si vuole e vedere i corridori che soffrono. Guardarli all'arrivo capisci veramente, vedi una vita del ciclista dagli occhi. Sguardo perso, smarrito, vuoto, senza energie perché hanno dato tutto fino all'ultimo centimetro della linea del traguardo. Dal pomeriggio Belluno ha iniziato a respirare l'aria del Giro d'Italia non da terra ma dall'alto. Quattro paracadutisti di livello internazionale che stanno partecipando in questi giorni alla Dolomiti Cup organizzata dalla società paracadutismo Belluno. Si sono offerti in uno spettacolo entusiasmante, poco dopo le 15, atterraggio in piazza dei Martiri su all'Ottobono della città per i campioni internazionali specializzati. Il lancio di precisione, tutti con gli occhi al cielo per ammirare l'atteraggio di Giuseppe Tressoldi che ha dispiegato il tricolore da 180 metri quadrati. Lo stesso tricolore portato al cospetto del Presidente della Repubblica davanti all'altare della Patria a Roma in occasione del 2 giugno 2021. I mezzi dell'organizzazione della tappa hanno iniziato l'allestimento della piazza da dove domani alle 12 il Presidente Zaia sarà lo starter del tappone Dolomiti. Stasera intanto la notte è rosa, negozi aperti, giochi, danze, cicchetti e musica dal vivo fino alle 23. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Abbiamo assaporato giornate soleggiate e calde. Nel weekend cambia tutto. Un fronte freddo irromperà dal nord Europa. Arriveranno temporali, anche forti. Vento e un brusco calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 maggio ci mostra una situazione variabile. Sarà buono al mattino. Poi nuvolosità in aumento, specie dal pomeriggio sono attesi rovesci un po' dappertutto. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi e locali grandinate. Venti moderati da nord-est. Temperature, come detto, insensibile diminuzione, lo vedete, minime tra 12 e 15 gradi. Massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso piogge sparse e intermittenti. In genere moderate sulla zona montana e sulla costa, più deboli in pianura. Soffierà bora moderata, forte nella notte a Trieste. Temperature minime sui 12-14 gradi. Massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà parzialmente soleggiato al mattino. Rovesci diffusi, anche intensi, temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 14 gradi. Massime sui 27-29 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.